Punta allo sviluppo turistico del territorio attraverso la realizzazione di ulteriori 5.000 posti letto, il nuovo piano regolatore generale del Comune di Menfi. Lo schema di massima di revisione dello strumento urbanistico è stato presentato dall'amministrazione comunale alla città ieri mattina durante un incontro che si è svolto al centro civico. Il PRG di Menfi, adottato nel 1996 e approvato in via definitiva nel 2001, dunque si rinnova dopo 20 anni e la linea sulla quale si muove è quella dello sviluppo turistico. Si tratta di una revisione generale, essendo scaduti i lingoli preordenati all'escopio, per cui già noi stiamo redigendo gli atti esecutivi per il nuovo piano regolatore. La legge prevede che prima di passare all'esecutivo si mandi in Consiglio comunale uno schema di massima che possa dare visione degli indirizzi, delle metodologie e delle grandi linee su cui sarà conformato il piano esecutivo. Abbiamo tenuto conto di un'indicazione del Consiglio comunale, ma anche di una nostra volontà amministrativa, quella di rendere il piano, la metodologia di piano come uno strumento di tipo partecipativo. Per cui già in una prima fase, che era quella di raccolta di una serie di indirizzi, noi abbiamo fatto tre incontri con i tecnici, con gli imprenditori e con la cittadinanza e dopo aver formulato un'ipotesi di bozza, ieri l'abbiamo portato in un'Assemblea cittadina in cui abbiamo raccolto ulteriori spunti. La bozza di massima prevede fondamentalmente un indirizzo specifico molto importante che riguarda lo sfrutto del nostro territorio. Noi puntiamo ad arricchire il territorio di Menzi dal punto di vista turistico con una dotazione di ulteriori 5.000 posti letto che debbano sommarsi ai 1.600 già esistenti. Questo farà in modo che la nostra città, la nostra economia e i nostri giovani possano scimentarsi in un'avventura, quale quella del turismo, che oggi rappresenta uno dei volane più importanti della Sicilia e anche nel nostro territorio. Non solo sviluppo turistico, ma anche delocalizzazione delle strutture ricettive, che sarà possibile realizzare non solo sulla fascia costiera. Questo prevede il nuovo piano regolatore generale del Comune di Menzi. La revisione ci permette di lavorare su un'ipotesi molto entusiasmante, che è quella della creazione di posti letto su tutto il territorio comunale, che parte dalla fascia costiera fino ad arrivare al Monte Magaggiaro, al Bosco del Magaggiaro. Ma permetterà anche di eliminare alcune situazioni critiche che precedentemente erano sorti con il piano attualmente in vigore. Ma darà anche la possibilità ad alcune aree, quelle della zona B e della zona di trasferimento, cioè il nuovo centro abitato costruito dopo il terremoto, di poter regolarizzare alcune incongruenze che avevano dimostrato il piano precedente. La bozza del nuovo piano a breve approderà in Consiglio Comunale e il Sindaco Lotà si dice certo che potrà entrare in vigore entro la fine dell'anno in corso. Se il Consiglio Comunale adotterà entro questo mese la bozza di massima, poi ci vorranno ulteriori 4 mesi per l'elaborazione del progetto esecutivo e quindi a fine anno potrà essere inviato al Consiglio Comunale per l'approvazione.